Verde pubblico, avanti così, almeno per ora. Il ricorso al TAR di Parma avanzato dalla Geocart contro l'assegnazione dell'appalto comunale alla cordata cremonese capitanata da Cuore Verde è stato respinto. Un primo responso che rappresenta una vittoria per il Comune, rigettando la richiesta avanzata dai legali della Coop Sociale Piacentina di non procedere alla stipula del contratto di servizio per il quale Palazzo Mercanti aveva provveduto alla consegna provvisoria in via d'urgenza alla fine di maggio. Il Collegio ha inoltre annunciato che la prossima udienza, in cui verrà trattato il merito della controversia, si terrà a gennaio 2020. La questione del verde cittadino è stata al centro di durissime critiche per i gravi ritardi nello sfalcio delle aiuole e dei parchi, con l'appalto che finì anche nel mirino della giustizia. Qualche giorno fa è stata la stessa procura di Piacenza a chiedere al giudice l'archiviazione del procedimento e ora si attende il suo pronunciamento.